Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per quanto riguarda la cantieristica notturna, in A1 domani notte in orario 22.6 sarà chiuso completamente lo svincolo di Chiusi-Chianciano sia in entrata che in uscita. Lavori in corso nei comuni di Cerreto Guidi e Fucecchio fino al 19 gennaio senso unico alternato sulla strada provinciale 112 e sulla strada regionale 436. Info sui nostri canali social. Per i cantieri della tramvia da domani prove di trazione sugli alberi in Viale Don Minzoni, interventi puntuali in Via Cavour per la posa dei ganci della linea di contatto. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!